A Isernia la nuova norma dello statuto che prevede la durata di 30 mesi della carica del Presidente del Consiglio Comunale dovrà essere applicata a partire dalla prossima consigliatura. È il parere del Ministero dell'Interno. Il protocollo della missiva del Viminale negli uffici di Palazzo San Francesco risale a questa mattina. Una risposta lampo, considerato che la pronuncia sull'articolo 22 del nuovo statuto era stata richiesta dal Presidente in carica Giuseppe Lombardozzi lo scorso 14 di gennaio. La norma non può essere retroattiva. Sarebbe questa, in sostanza, la motivazione fornita dal Viminale. Un parere non vincolante, ma che, considerata l'autorevolezza della fonte, sarebbe difficile e inopportuno non considerare. Nel commento a caldo del Presidente Lombardozzi, raggiunto telefonicamente, il riferimento al rischio di un contenzioso amministrativo tra l'ente di Palazzo San Francesco e il Ministero, in caso di immediata applicazione della contestata norma. Di diverso parere, i fattori in Consiglio della innovazione statutaria. Tra questi, i popolari che, con il capogruppo Gianni Fantozzi, solo qualche giorno fa avevano messo, per così dire, le mani avanti, ribadendo l'assoluta sovranità della sise civica sulla questione. In realtà, in attesa di sviluppi, nel corso della prossima seduta del Consiglio, fissata per venerdì 8 febbraio, va sottolineata che quella del Presidente a tempo è una vicenda con delle importanti implicazioni di carattere politico. I recenti rimescolamenti all'interno della maggioranza guidata dal Sindaco d'Apollonio, con il gruppo che fa riferimento all'ex governatore Michele Iorio, svuotato dal passaggio nel gruppo dei popolari di sei consiglieri, una delle cause delle tensioni in atto. A questo punto, visti i recenti sviluppi dal Ministero, se la norma dello statuto non dovesse essere applicata, il riequilibrio della rappresentanza nell'esecutivo di Palazzo San Francesco renderebbe più probabile l'annunciato e fino ad ora mai operato rimpasto di giunta. Grazie a tutti.